E mamma Giulia guadagna 8.000-9.000 euro al mese lavorando da casa sua? Beh, non avendo più idee, sono andato sul Fatto Quotidiano online, perché io quando sono senza idee vado sul Fatto Quotidiano online e ho dato un'occhiata ai vari articoli e non ho trovato nulla di interessante. Però ho trovato tanto interessante una pubblicità dove si esalta un nuovo sistema per lavorare a casa propria e guadagnare tanti quattrini. E io faccio clic e mi si apre una bella paginata dove si parla di mamma Giulia. Mamma Giulia, questa bella paginata, cari amici, ve la metto nel riassunto di questo video in maniera che anche voi possiate fare clic così vi appare quello che si scrive su mamma Giulia. Che ora da casa sua mamma Giulia può guadagnare 7.000-8.000-9.000 euro al mese stando comodamente a casa propria. Beh, allora io guardo un po' che cos'è questo tipo di lavoro, guardo che tipo di lavoro è e allora vado a digitare su web tale tipo di lavoro, tale tipo di lavoro e mi salta fuori invece che questo tipo di lavoro che ha a che fare con la finanza, ha a che fare con le banche, con la finanza e con gli investimenti è un tipo di lavoro che non ti dà certezze e io vi metterò quello che si scrive su tale tipo di lavoro e lo metterò come link, quindi voi nel riassunto di questo video troverete due link nel primo link sentirete la felicità di mamma Giulia per questo suo lavoro da casa stando comodamente a casa propria può accudire anche il proprio bambino e arrivare a guadagnare 8.000-9.000 euro mensili e poi c'è un secondo link aprendo il quale voi avrete delle notizie diciamo oggettive, oggettive su questo tipo di lavoro che ha a che fare con la finanza, con gli investimenti e che viene tanto reclammizzato o pubblicizzato su Il Fatto Quotidiano ecco cari amici, anche questa volta io andando sul Fatto Quotidiano ho trovato qualcosa di interessante non ho trovato un articolo da commentare ma ho trovato una pubblicità da commentare perché sul Fatto Quotidiano io ci trovo anche tante belle pubblicità da commentare nel passato sul Fatto Quotidiano trovavo la pubblicità di una bella casa editrice a pagamento una bella casa editrice a pagamento di cui ora mi sfugge il nome e io su questa una bella casa editrice a pagamento pubblicizzata sul Fatto Quotidiano e ci ho fatto tanti video e anche questa volta io non sono andato in vano sul Fatto Quotidiano perché ho trovato sul Fatto Quotidiano una bella pubblicità sulla quale fare questo video ecco cari amici voi adesso avete tutti gli elementi per dire io ho detto la mia e voi avete tutti gli elementi per dire la vostra perché quando avrete terminato di ascoltare questo video voi andate nel riassunto fate clic e si apre l'articolo su Mamma Giulia poi dopo che avete letto l'articolo su Mamma Giulia fate clic sul secondo link e vi appare e vi appare un articolo molto critico molto critico su tale sistema di lavoro che ti farebbe guadagnare 8.000-9.000 euro al mese stando comodamente a casa tua io non ho mai conosciuti dei lavori tramite i quali guadagnare 8.000-9.000 euro al mese stando comodamente a casa tua io ho 76 anni compiuti non li ho mai conosciuti beh ditemi voi come stanno le cose va bene io sono questo qua io sono un filosofo di strada sono un filosofo scenico cari amici ed è per questo che tali pubblicità insomma attirano tanto la mia curiosità a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni